Potrebbe essere il prossimo 11 aprile, il giorno della riapertura della piscina comunale di Arezzo. Il presidente del Centro Sport Chimera, Walter Magara, ha scritto al sindaco Ghinelli, come riporta la nazione di Arezzo. Nella lettera ci sarebbe la data ipotizzata per la riapertura l'11 aprile, appunto. Un altro mese circa, dunque ancora di chiusura. Dal 20 gennaio, giorno in cui l'impianto è stato chiuso con ordinanza sindacale, sono ormai passati due mesi. Il motivo dell'ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli era la mancata volontà da parte del gestore di non richiedere il green pass all'entrata dell'impianto. Il 24 febbraio poi sindaco e gestore si sono parlati e il gestore si era reso disponibile a delegare più soggetti, non solo l'associazione sportiva Chimera Nuoto, a chiedere il certificato al loro posto. Nella lettera però il gestore metterebbe come condizione per la riapertura, il prossimo 11 aprile, il fatto che il comune revochi l'ordinanza di chiusura. Adesso tutto dipenderà dunque da cosa deciderà l'amministrazione comunale e sarà scritta un'altra pagina di questa infinita cherelle.